L'app Ranking Coach è l'applicazione mobile gratuita per tutti i clienti Aruba che consente di gestire il piano acquistato. Ti basterà scaricarla dallo store ufficiale del tuo dispositivo, Google Play per Android, Apple Store per iOS. Per iniziare collegati alla dashboard di Ranking Coach e clicca sull'icona del tuo profilo nell'angolo in alto a destra. Seleziona la voce Dati personali. Visualizzerai le informazioni generali del profilo, i link per scaricare direttamente l'app e il QR code da scansionare per accedere al tuo account. Tieni aperta la pagina, apri l'app e clicca sopra l'icona indicata per inquadrare il QR code. Ben fatto! Il QR code è stato scansionato con successo e adesso puoi accedere rapidamente all'evoluzione online della tua attività con l'app mobile Ranking Coach.